e cari amici appassionati di Formula 1 ciao a tutti da Beatrice Frangione e benvenuti in questa nuova puntata dedicata alla massima serie automobilistica prima di iniziare con il tema di oggi devo assolutamente dare il benvenuto e il bentornato al mio compagno di squadra Luca Preti ciao ciao a tutti ciao Luca ciao caro Luca ti sei ripreso dopo la presentazione della nuova Ferrari sei pronto sei carico sì sì e vedi adesso sto cominciando questa nuova filosofia molto più rilassata molto più serena per vedere tutti affrontare questo campionato perché febbraio soprattutto per voi ferrariste è un mese molto particolare a volte si parte sempre super mega ottimisti poi si arriva con i primi di marzo che ogni speranza viene totalmente demolita ma ti auguro che non sia così quest'anno totalmente allora dopo le emozioni di ieri emozioni visive perché la macchina è bella l'ho riguardata l'ho in tutti gli aspetti io non sono un tecnico lo sai neanche lo voglio essere però mi piace ci sono state le macchine che uscivano dicevi che brutta speriamo che vada questa è bella speriamo che vada ma come ci siamo detti anche ieri le macchine vanno viste con le ruote per terra e finché non arriva meglio sfruttare l'idea di Vasseur di tenere un profilo basso in ogni caso cercheremo di fare del nostro meglio un profilo basso e vediamo quello che succederà finché non le mettiamo in pista bisogna rimanere sereni che già non essere sul guardrail alla curva a Maranello ieri per me è stato un grossissimo sacrificio ma il lavoro non me l'ha consentito altrimenti io sarei stato là ad ascoltarlo quel motore capito ma nient'altro mi fermo qui perché dopo se la Ferrari come appunto ha detto anche Vasseur ha voluto mantenere un profilo molto basso c'è chi invece con una strategia di comunicazione ha voluto dare un po' un rimbombo a una voce secondo me c'è dietro una grossa strategia comunicativa visto il soggetto di cui adesso ti parlerò perché diversi giorni fa è stata pubblicata una fotografia da un certo Flavio Briatore storico manager di Fernando Alonso e questa fotografia è una fotografia molto particolare perché ritrae il buon briatore in compagnia di Toto Wolf niente poco di meno che il principal della Mercedes a prendere un bel caffè insieme in una pasticceria di Monte Carlo tu dici ma che male c'è tra due persone che si conoscono poi Monte Carlo comunque non è così grande non è una metropoli da dire ti incontri prendi un caffè però a letto dei fatti che sono accaduti nelle ultime settimane ci può stare e fare una riflessione ovvero ma non è che per caso Briatore sta cercando di spingere un certo Fernando Alonso in Mercedes oppure tutta una strategia comunicativa quella di pubblicare questa foto per dire qui noi ci stiamo muovendo anche se nulla è stato definito tu cosa ne pensi ancora di meno secondo me ma è una mia impressione personale il fatto stesso che tu il caffè lo vai a prendere per strada a Monte Carlo che hai ragione tu è piccolissima ma è negli occhi di tutti i fotografi del mondo non li ha visto nessuno lo stesso cosa ha fatto l'ha pubblicata lui la foto che si è fatto fare da un giornalista quindi Briatore lo conosciamo tutti da una vita grandissimo manager di Formula 1 perché ha vinto mondiali con un'auto che nessuno se lo sarebbe mai aspettato ha creato piloti incredibili tipo Schumacher Alonso stesso continua a seguirlo ogni tanto un po' sopra le righe anche nelle sue dichiarazioni che ogni tanto gli sentiamo fare ma non è uno stupido e quindi ha sfruttato questo momento che vorrei definire come ha definito il maestro nella puntata come ti ho scritto trancheant proseguendo su quella su quella linea con un comportamento trancheant è andato a prendere un caffè con Toto Wall e l'ha fatto sapere a tutti secondo me non hanno parlato di niente se non di consolarlo e di dire sì ti hanno fatto una vigliaccata anche se comunque Hamilton era a fine corsa anche con la Mercedes secondo me non erano altissime le speranze di recuperare un ruolo da protagonisti a livello di immagine io intendo con la Mercedes cioè con la Mercedes potevi recuperare forza se vincevi un mondiale ma altrimenti rimanendo lì sei il pilota vecchio che sta finendo e quindi è un colpo di teatro per ridare luce anche all'Alonso che non ne ha bisogno secondo me Alonso con la sua schiettetta quindi ci sono tante dietrologie ma loro di dietrologia ne fanno poca è chiaro che ad Alonso con l'Aston Martin sta portando avanti un bellissimo progetto ma che sa che da qui al 2026 forse gli farà vincere delle gare e me lo auguro perché se lo meriterebbero perché sta lavorando tanto non gli permetterebbero di lottare sempre per le prime posizioni come invece potrebbe essere con una Mercedes quindi invece che farlo in maniera strana o per via ufficiale lo faccio in maniera eclatante dico sono qui se hai bisogno sono qui tu basta che buschi e mi chiami io arrivo hai capito? io rispondono e io arrivo esatto quindi per forse superare qualche altro pilota come si sta parlando di Kimi Antonelli che lo vogliono portare dietro che ha tutte le logiche tecniche strategiche del mondo io non glielo metterei mai in macchina soprattutto su una Mercedes di passaggio che ha bisogno di uno che capisca al volo cosa c'è per fartelo cambiare la gara dopo non un ragazzo che ogni volta che torna in pista per quanto sia talentuoso non sa che cos'è succede o non sa perché è successo certe cose quindi hai bisogno di un Alonso e io me lo auguro con tutto il cuore per la Mercedes perché vorrei che tornasse competitiva di prendere un Alonso perché Rasse l'è forte ma ha bisogno di un aiuto da solo non ce la fa a come si dice da noi svangare questi due anni perché bisogna svangare questi due anni insomma e quindi senza tante dietrologie c'è stato messo a disposizione ci sono secondo me comunque sia dei pro che dei contro fantasticando un po' sulla possibile valutazione della presenza di Fernando Alonso in Mercedes allora per quanto riguarda il contro ti direi sicuramente il discorso anagrafico cioè per quanto Fernando Alonso sia lo sappiamo ok un leone che non si arrende mai a niente e sembra veramente avere l'energia di un ragazzino però sostituire un ragazzo di quasi 40 anni cioè mi sto riferendo a Lewis Hamilton con Fernando Alonso che ha un paio di annetti in più non sembra comunque una strada giusta al netto soprattutto di quello che poi sarà il 2026 quindi la necessità di avere di aprire questo nuovo ciclo tecnico che secondo me richiede un po' di equilibrio quindi non andare a squilibrare troppo le cose però sicuramente se come dici tu c'è la necessità di avere un pilota che comunque ha ottenuto dei grandi risultati in Formula 1 in cui parliamo di un bicampione del mondo sicuramente lui può dare il suo contributo come quello anche di trainare una squadra che in questo momento e poi ne parleremo in maniera più approfondita nella prossima puntata sta cercando di ricostruire un po' le fondamenta di quell'abitazione che è crollata negli ultimi anni è un po' un cantiere come abbiamo detto prima tra di noi quindi potrebbe anche essere utile come personaggio con i suoi controcaratteriali avere una tipologia di Fernando Alonso nella squadra voglio anche dare un pochino di fiducia a George Russell nel momento in cui Lewis Hamilton non sarà più pilota della Mercedes Russell per quanto sia a livello di esperienza sicuramente ha meno esperienza di un sette volte campione del mondo o di un bicampione del mondo però comunque è riuscito già ad entrare nel meccanismo di una squadra e tra l'altro gli è entrato in un periodo molto difficile quindi nel ciclo non già più vincente praticamente ma è entrato già in un'era in cui la Mercedes non era più vincente e quindi riuscire a entrare anche nel meccanismo di questa squadra non è semplicissimo ma arriverà nel 2025 2026 secondo me già con una consapevolezza in più dell'ambiente che gli è intorno nonostante appunto però gli manchi sicuramente quell'esperienza quella come si dice quel piglio agonistico che solamente un campione del mondo con molti piani di esperienza in Formula 1 può avere io la vedo così poi sicuramente Alonso in Mercedes potrebbe essere una bellissima storia che noi ameremmo raccontare certamente ma guarda non vorrei comunque vedere bruciare le tappe ad un Andrea Chimi Antonelli che per quanto sia veramente un ragazzo di grandissimo talento non vorrei che bruciasse troppo le tappe per arrivare in Formula 1 ha bisogno i passaggi giusti e la macchina giusta per farlo guarda io totalmente d'accordo con te con tutto quello che hai detto ti aggiungo una cosa che il Russell è il futuro della Mercedes spero che non se lo lasciino scappare ma due anni con un personaggio come Alonso che ha dimostrato anche di saper essere un compagno di squadra incredibile guarda cosa sta facendo con Stroll lo sta tirando su lui che gli dici guarda tu vieni vinci cerca di vincere ma tu mi mi aiuti Russell e lui lo fa perché Alonso lo fa forse più di quello che avrebbe potuto fare Hamilton proprio per un fatto caratteriale hai capito e quindi mi fa comodo anche da quel punto di vista in più considera l'impatto mediatico Mercedes è uno dei più grossi produttori al mondo di autovetture dopo aver perso Hamilton che figurone faccio mettendoci Alonso hai ragione è amatissimo in Europa amatissimo negli Stati Uniti conosciutissimo quindi anche commercialmente diventerebbe un colpo mediatico fenomenale incredibile e Mercedes ci guarda queste cose giustamente perché gli investimenti che fai tu lo fai per avere un ritorno dall'altra parte vero l'unico folle che iniziò con una una scuderia prima di fare l'auto è stato l'ingegner Ferrari gli altri partono tutti da un concetto completamente diverso quindi per me sarebbe la cosa più logica non credo non so se succederà perché dietro ci stanno mille altre cose che noi non siamo tenuti a conoscere lo vedremo è divertente ci si aspettava un campionato noioso invece queste cose ce lo stanno tenendo divertente diciamo così interessante e secondo voi cari amici è divertente oppure no tutto questo fatecelo sapere assolutamente qui sotto nei commenti perché noi vi leggiamo se avete anche degli spunti dei temi che volete che Luca trattiamo nelle prossime puntate fatecelo assolutamente sapere soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale youtube attivando la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite attenzione perché anche il tema della prossima puntata come vi abbiamo più o meno un po' spoilerato adesso sarà molto interessante vero Luca? assolutamente sì e poi non dico altro ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao